Il linguaggio positivo è fondamentale nelle relazioni, è come un sorriso quando ci si incontra un gesto cortese. Da qui bisogna ripartire per ristabilire una buona convivenza e combattere la violenza psicologica, anche tra le mura domestiche. A questo tema il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, con il patrocinio dell'Ordine e del Comune, ha promosso un convegno presso l'auditorium del Policampus dal titolo Dal linguaggio alla violenza psicologica. L'apertura dell'evento è stata affidata alla proiezione del video del rapper Junior Calli, discusso cantante con testi giudicati, violenti e sessisti, pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo. Lo spirito è sicuramente quello che è la natura del Comitato, la natura istituzionale, ed è quella di promuovere una cultura di apertura e di superamento di tutte le barriere dovute all'ignoranza e sull'accoglimento della diversità in tutte le sue forme. Non si dà più il peso alle parole che si dava anni fa. Oggi le parole volano in modo troppo superficiale e da qui nascono spesso anche fenomeni di bullismo che non sono necessariamente legati a situazioni fisiche. Quali sono queste violenze? Beh, sono appunto insulti, denigrazioni costanti. Sei una che non vale niente, non sei capace di fare la madre. Fino ad arrivare ad insulti invece più importanti che costantemente, alla fine se tutti i giovani ti dicono che sei una buona a nulla, tu cominci a pensare che veramente non sei buona a nulla. Il problema è che quando in questa situazione familiare ci sono dei minori, questi minori assorbono tutto quello che è la vita del momento. Teniamo conto che esiste un numero scuro altissimo, quindi ogni caso che viene alla luce ne presuppone altri 5, 6, 7 che non verranno mai conosciuti. A volte addirittura si arriva a un livello di manipolazione psicologica tale della donna che la stessa donna non si rende conto fino in fondo di quanto è vittima. Quali sono le criticità della risposta giudiziaria nei casi di violenza domestica? Un'assenza di specializzazione nella magistratura. Noi abbiamo soltanto il 12% di giudici specializzati e circa il 62% di pubblici ministeri specializzati. Il fatto che ci sia un'eccessiva durata dei procedimenti, c'è da fare molto, molto si sta facendo, dobbiamo essere però positivi e fiduciosi. Il Codice Rosso non ha cambiato le cose? Le ha cambiate sul piano dell'accelerazione della trattazione della notizia di reato. In questo è stata una legge molto positiva.